capitolo 15 yonkers e invece cari lettori mi ci spedì aspettai fino all'ultima ora per andare dalla mia counselor così da non perdere troppe lezioni se mi avesse di nuovo sparato nell'atlantico in prima battuta però speravo che io ed eudora potessimo semplicemente avere una conversazione piacevole e tranquilla benvenuto percy jackson sembrava sinceramente contenta di vedermi mentre mi faceva entrare e mi indicava un'altra seggiolina di plastica azzurra mi chiesi se non ne avesse una catasta nell'armadio così da poterne tirare fuori una nuova ogni volta che inabissava qualcuno attraverso il pavimento mi sorrise da sopra il barattolo di caramelle gli occhi fluttuavano dietro le lenti a fondo di bottiglia i capelli ondulati brillavano come se li avesse appena spalmati di bava di medusa allora come va mi è stata assegnata la mia prima missione le riferì da ganimede è meraviglioso di cosa si tratta esattamente squitti lei le fornì i dettagli ma il suo sguardo mi deconcentrava a tal punto che tenni gli occhi sul disegno viola di rana malata mi fissava tutta abbacchiata con il termometro in bocca almeno non giudicava stavo raccogliendo il coraggio per chiedere a eudora il favore dove si trovava il fiume ilisso quando mi fermò solo un momento prima c'era di mezzo ebe e ora iride hai fatto domanda per un doppio credito io cosa oh caro essendo coinvolte più divinità avresti potuto richiedere il doppio credito anche ebe e iride avrebbero potuto scriverti una lettera di presentazione vuoi dire che avrei potuto ottenere tutte e tre le lettere con quest'unica impresa eudora spostò il barattolo di caramelle in modo che facesse da barriera protettiva tra noi beh sì però e se facessi domanda adesso potrei tornare da ebbe mi schiaffeggiai mentalmente ok forse da ebbe no ma potrei tornare da iride purtroppo il doppio credito va richiesto in anticipo temo che ormai sia troppo tardi guardai rana malata avevo voglia di darle un pugno sul muso ma dato che era dipinta su un muro di mattoni ritenni che mi sarei fatto più male io di lei non possiamo fare un'eccezione implorai insomma io il lavoro l'ho svolto cioè lo sto svolgendo eudora frugò tra i suoi opuscoli e tirò fuori quello della new rom university no vedi proprio qui dice che il doppio credito non può essere richiesto a posteriori è una regola generale pensavo di essere l'unico a dover presentare queste benedette lettere in effetti sì vedi mi porse la brochure in fondo a un minuscolo paragrafo sul doppio credito che ero abbastanza sicuro non ci fosse in precedenza un asterisco rimandava a una dichiarazione di limitazione di responsabilità ancora più minuscola che diceva applicabile a persi jackson ma è assurdo non lo sapevo eudora sospirò beh almeno sembra che l'impresa stia andando bene qual è il prossimo passo il prossimo passo è dare un pugno in faccia alla tua rana pensai non lo dissi mi obbligai a ispirare e dissi invece il passo successivo è che ho bisogno di un po di orientamento eudora si piegò in avanti sulla sedia elettrizzata esattamente quello che faccio io le raccontai del caduceo di iride che al momento stazionava nell'armadio di camera mia devo pulirlo quindi ho bisogno di trovare il fiume ilisso eudora non smise di sorridere forse era fisiologicamente incapace di farlo ma le sue labbra si allungarono in una smorfia come se qualcuno le stesse tirando la conchigliatura l'elisso ah radunò i suoi opuscoli e li rimise nel cassetto ci fanno il bagno ai serpenti sai così ho sentito e mostri di ogni tipo sconsigliabile solo che non ho scelta ho bisogno di quella lettera di presentazione come mi hai detto tu eudora fece un'altra smorfia probabilmente combattuta tra gli obblighi del lavoro e i suoi sentimenti personali sì ma ilisso è per maloso non gli piace che le persone approfittino delle sue limpide acque per maloso vuoi dire il dio del fiume avevo già avuto occasione di conoscere alcune divinità fluviali tendono a essere scontrose e ostili e considerano i semi dei soltanto un'altra forma di inquinamento come gli pneumatici usati o i mozziconi di sigaretta se scopre che ti ho dato io le indicazioni non mi lascerà mai più partecipare alle sue lezioni di yoga mormorò quasi tra sé lezioni di no non importa mi affrettai a rettificare mi stai dicendo che sai dove posso trovarlo eudora guardò l'orologio siamo quasi a fine giornata direi che se tu capitassi per caso alle sorgenti dell'ilisso non sarebbe colpa mia le piastrelle iniziarono a gorgogliare e gocciolare acqua intorno alla mia sedia no ti prego io ci provai buona fortuna persi e venni risucchiato di nuovo attraverso il pavimento avrei potuto finire in grecia o in brasile o chissà dove fui fortunato a finire a yonkers invece e questa è la prima volta nella storia che le parole fortunato e yonkers vengono usate nella stessa frase d'accordo scusatemi voi di yonkers non è giusto ma ehi non era esattamente il posto dove volevo finire scaricato da uno sciacquone subito dopo la scuola sapendo che avrei dovuto farmi un viaggio extra in treno di 30 minuti per tornare a manattan con la mia sedia di plastica azzurra fui sparato fuori da un tubo di scarico precipitai giù per un pendio roccioso e finì in un torrente rimasi seduto lì per un secondo stordito e contuso con l'acqua fredda che mi inzuppava i pantaloni la prima cosa che notai fu il fondo della sedia rovesciata dove una piccola piastra di metallo recitava si prega di restituire a eudora oceano atlantico deposito rimborsabile una dracma d'oro fantastico se non fossi riuscito a entrare al college o a trovare un lavoro avrei sempre potuto vagare per new york alla ricerca di sedie di plastica azzurra per incassare i relativi depositi mi rimisi faticosamente in piedi il torrente serpeggiava in mezzo alla zona industriale di una tetra cittadina bassi edifici in mattoni vecchie fabbriche e magazzini riconvertiti a condomini uffici sapevo che si trattava di yonkers perché ai lampioni di ferro del lungo fiume erano appesi striscioni stranamente festosi che inneggiavano yonkers era il tipo di area post industriale che avrebbe avuto un aspetto migliore in pieno inverno sotto un pesante cielo grigio e un manto di neve sporca rozza cupa un posto stile fatelo andar bene così o tornatene a casa tua il letto del fiume era affiancheggiato da cespugli e massi grigi molti dei quali erano decorati con sangue e brandelli di pelle di persi esito del mio capitombolo dal tubo di scarico l'acqua era quella che educatamente si potrebbe definire non potabile marrone torbido striato di bollicine simili a bagno schiuma solo che ero certo non fosse bagno schiuma ero atterrato accanto a una zona paludosa che un cartello indicava come fiume sawmill habitat naturale del topo muschiato di topi muschiati neanche l'ombra essendo animali intelligenti probabilmente erano in vacanza a miami il nome sawmill mi suonava vagamente familiare mi sovvenne un ricordo di quando ero piccolo mia madre mi aveva letto un articolo di giornale su una serie di fiumi urbani che all'epoca erano stati coperti e trasformati in canali di scolo sotterranei e che ora stavano cercando di riaprire e convertire in habitat naturali come lo avevano chiamato il programma riportare alla luce i fiumi da quello che potevo vedere il sawmill non aveva goduto molto di quella luce tre isolati più a nord l'acqua gocciolava riluttante da un tunnel grande abbastanza da far passare un camion la corrente era lenta come se volesse stresciare di nuovo nel buio a nascondersi mi chiesi se eudora non avesse commesso un errore o volevi l'ilisso le acque più pulite del mondo la immaginai dire scusa pensavo avessi detto il sawmill le acque più pulite della contè di west chester li confondo sempre o forse mi aveva scaricato fuori rotta di proposito per proteggere l'ubicazione di ilisso se era così il dio del fiume doveva tenere un corso di yoga davvero strepitoso arrancai controcorrente scivolando e inciampando su visci de rocce coperte di muschio mi guardavo intorno compulsivamente per individuare mostri poliziotti di yonkers o topi muschiati irascibili ma nessuno mi infastidì a circa metà strada sentì il primo soffio di aria putrida che arrivava dall'imboccatura del tunnel come il respiro di un gigante addormentato che viveva di panini al pesce ammuffiti mi piegai in due sopraffatto dai conati l'odore non mi faceva pensare alle acque più pulite del mondo mentre ero curvo e pregavo il cielo di non vomitare vidi qualcosa galleggiarmi vicino a un piede all'inizio pensai che fosse un sacchetto della spesa strappato un brandello di plastica lattiginosa semitrasparente poi notai il motivo a nido d'ape sulla membrana tipo scaglie tipo pelle di serpente per la nausea non mi fu molto d'aiuto ok iride ci aveva detto che i serpenti facevano il bagno nel fiume ilisso forse lì l'acqua non era così pulita perché mi trovavo nello scarico della vasca da bagno di qualche mostro o magari quella pelle apparteneva a un serpente normale perché la natura funziona così avanzai di qualche passo quando guardai di nuovo in basso vidi qualcos'altro incagliato in un letto di muschio c'era un oggetto nero curvo e a punta grande quanto il mio dito indice un impulso forse un desiderio di morte mi spinse a raccoglierlo l'artiglio reciso brillò alla luce del sole avevo già visto qualcosa di simile sulla punta delle dita della mia prof di matematica di prima media alias la furia a letto fissai il tunnel buio qualunque cosa ci fosse là dentro a farsi il bagno con la schiuma non volevo incontrarla da solo senza contare che non avevo il bastone di iride questo purtroppo significava che sarei dovuto tornare con i rinforzi e sottoporre annabeth e grover alle meraviglie dell'habitat della furia del fiume sow mill maledissi la mia counselor rana malata e la vita da semidio in generale poi feci marcia indietro arrancando a cercare la stazione ferroviaria più vicina